Riprendiamo con lo spazio dedicato all'informazione, facciamo qualche approfondimento sui temi di attualità. Intanto, Brindisi, la situazione politica complicata a Palazzo di Città sembra essere ad una svolta perché a quanto pare Fratelli d'Italia ha indicato i suoi nomi da inserire in giunta, quindi il cerchio dovrebbe essere chiuso. Però la notizia ufficiale, o chiederemo se è una notizia ufficiale al diretto interessato, è stata data ieri sera dal consigliere Roberto Quarta su Facebook. Quarta che ha pubblicato un messaggio di una chat che porta la firma di Luigi Caroli, il segretario provinciale di Fratelli d'Italia, in cui si legge Buonasera, scusate per la modalità di comunicazione utilizzata, ricoprirà l'incarico di assessore con delega vice sindaco la dottoressa Giuliana Tedesco, urbanistica e gestione del patrimonio, rigenerazione urbana, riqualificazione della costa, trasporti, parcheggi, impiantistica sportiva e turismo. Antonio Pisanelli, pubblica istruzione e politiche dell'Unione Europea, cooperazione internazionale, politiche giovanili, sport e promozione sportiva, politiche del lavoro, canile e dog park, ancora salute e benessere. Augurando il meglio alla nuova giunta, al nostro gruppo consigliare e all'intera maggioranza e alla città di Brindisi, spero che per i prossimi 4 anni possano essere per tutti voi forieri di grande soddisfazione politico-amministrativa e familiari. Buona serata. Il posto, il messaggio da parte di Luigi Caroli, segretario provinciale di Fratelli d'Italia, che abbiamo al telefono. Buongiorno Caroli. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Allora, intanto la notizia è stata diffusa dal consigliere Roberto Quarta, ma sicuramente avremmo avuto informazioni anche in mattinata. Noi abbiamo intercettato questo post e abbiamo approfittato, quindi vorremmo commentare con lei questi nomi. Come sono stati scelti? Intanto da un lato c'è una new entry, che è Giuliana Tedesco, deleghe importanti, vice sindaco che va a sostituire di fatto Massimiliano Giano. Dall'altro c'è una conferma, quindi una promozione per Antonio Pisanelli, che passa dai servizi sociali alla pubblica istruzione ad una serie di altre deleghe. Allora, come vogliamo iniziare a spiegare questa scelta da parte del partito? Intanto non è stata una scelta semplice, perché noi avevamo lavorato alla cremente per trovare le due figure maschili. A fronte della richiesta nuovamente ricevuta da parte del sindaco, abbiamo per il bene della città preso in considerazione la sua richiesta e con molta serenità abbiamo lavorato per trovare una figura, per riscontrare una figura che potesse avere requisiti, che potessero poi ritornarci a vantaggio nostro per come gruppo consigliare, per l'amministrazione, per quella... scusate ma io ho un ritorno di... non riesco a parlare. Possiamo perfezionare l'audio per il segretario Caroli? Lo chiedo alla regia. Proviamo ad andare avanti, segretario, le chiedo un attimo di pazienza. Prego. Sì, dicevo poco, anzi, quindi non è stato semplice perché bisognava riscontrare una figura che avesse determinate caratteristiche, considerato anche le deleghe che andrà a gestire, che sono sicuramente complesse, articolate e tecnicamente delicate e per più dovrà ricoprire il ruolo di vice sindaco, quindi dopo aver fatto un'analisi dettagliata di un bel po' di proposte si è deciso comunque sia di investire su una figura tecnicamente preparata con un percorso lavorativo importante e quello che di più è una figura che ha deciso di mettersi a disposizione per quello che è il progetto di Fratelli d'Italia e per quello che è un progetto di rilancio nella città di Brindisi. Le polemiche fanno parte sempre delle scelte, quindi su Facebook qualcuno si chiedeva chi fosse Giuliana Tedesco. Ce la vuole presentare il segretario e soprattutto per quale motivo alla fine la scelta è ricaduta su una donna e proprio sulla dottoressa Tedesco? Come dicevo poc'anzi è una commercialista, schisce uno studio di consulenza amministrativa, tributare, fiscale da un bel po' di anni e una delle commercialiste ritengo più affermate della terra di Brindisi con esperienze anche nel mondo anche della pubblica amministrazione e quindi abbiamo ritenuto, dopo esserci confrontati più volte, che il profilo rappresentato dalla dottoressa Tedesco potesse essere quella che in un certo qual modo potesse risolvere i problemi nostri e quelli dell'amministrazione, una figura tecnicamente pronta, con esperienza e con una visione, quello che è di più un importante attaccamento alla città. Lei diceva che non è stato semplice, in effetti i tempi si sono protratti non poco, quali sono state le maggiori difficoltà riscontrate? Qualcuno che non voleva staccarsi dal ruolo? Per esempio? No, ognuno compete per ottenere il risultato ed ognuno legittimamente rivendica la possibilità di ricoprire il ruolo. Io non vorrei che nessuno di noi si trovasse al posto degli assessori che sono stati rimossi, perché quella alla fine, questa legge elettorale purtroppo condiziona solo ed esclusivamente coloro i quali partecipano alla competizione per i comuni, oltre ai 15 mili abitanti del nego sistema proporzionale, a trovarsi in questa situazione paradossale. Questo non accade in Parlamento, non accade in Regione, non accade nei comuni dove si utilizza il sistema maggioritario. Quindi non è semplice, uno ha partecipato e magari si è impagnato ottenendo dei risultati importanti e poi da un giorno all'altro comunque si vede defenestrato. Bisognerebbe trovarsi ai loro posti. Comunque alla fine ritengo che in maniera più che equilibrata hanno deciso comunque sia di assecondare quelle che hanno richieste del Sindaco e di riflesso anche del gruppo. Ora si parte con un percorso nuovo ringraziando comunque in particolare il nostro, io ringrazio in particolare il mio Vice Sindaco per l'impegno che ha profuso in questo anno per risultati che comunque è stato capace di portare all'amministrazione comunale. Di fatto però Massimiliano Oggiano sicuramente la riterrà una bocciatura, segretario, visto che soprattutto ad esempio Pisanelli è stato riconfermato in Giunta ma con deleghe diverse perché passa dai servizi sociali, lo ripetiamo, alla pubblica istruzione, politiche dell'Unione Europea, cooperazione internazionale, ancora politiche giovanili, sport e promozione sportiva, politiche del lavoro, insomma sono deleghe di un certo livello. Quindi da un lato Pisanelli è stato sicuramente promosso, lei ringrazia il Vice Sindaco Oggiano ma di fatto Oggiano è stato chiesto di fare un passo indietro per lasciare spazio a Giuliana Tedesco, inevitabilmente questo merita anche un commento da parte sua. Non sento, è una lettura che non condivido. Può alzare un po' la voce, segretario, gentilmente? Ho detto, è una lettura che non condivido perché la scelta non è partita sicuramente da noi ma è partita dai 18 consiglieri comunali firmatari di un documento che hanno chiesto apertamente al Sindaco di rimuovere gli assessori Loiacono, Quarta e Oggiano e all'interno di questo numero di nomi non veda sicuramente quello di Antonio Pisanelli per cui Antonio Pisanelli non è mai stato messo in discussione. E siamo contenti di questo ovviamente, ci mancheremo. Ma ci troviamo nella stessa situazione in cui si trova Forza Italia, c'era una figura che si era presa in considerazione e le altre assolutamente no e quindi così come si è comportata Forza Italia alla stessa stregua ci siamo comportati noi. Poi all'interno di una riorganizzazione delle deleghe si è ritenuto con il Sindaco di affidare al consigliere Pisanelli, oggi assessore alla pubblica istruzione e alle politiche giovanili, di ripartire con il corso nuovo e quindi con la gestione di attività differenti. Quindi sono due situazioni completamente che non non hanno alcuna attivenza a Pisanelli, comunque sia una figura tenuta fuori da quello che è contenuto dalle volontà del documento. Un'ultima domanda, poi la liberiamo perché intanto la ringraziamo per essersi fermato a discutere qualche minuto con noi. Ha sentito il Sindaco Marchionna? È soddisfatto? Assolutamente, la comunicazione, l'interlocuzione l'ho sempre avuta con il Sindaco Marchionna al quale ho inviato in precedenza una comunicazione, purtroppo da Whatsapp perché fuori non avevo la possibilità di poter utilizzare la posta elettronica e ci siamo ritrovati su tutte quelle che sono le posizioni ma più che altro quello che è il programma. Brindisi è una città che in questo momento venire un momento molto delicato e molto complesso, basti pensare alle crisi occupazionali ma comunque c'è anche persone in cui persa la zona industriale che bisogna immediatamente attenzionare, così come bisogna immediatamente dare risposta dall'aspetto della gestione del corrente che la città ci chiede da quando ci siamo insediati fino all'utilizzo attento, preciso e oculato di quelle che sono le risorse che sono state intercettate. Bisogna partire con un corso nuovo, con un passo nuovo, Brindisi ha bisogno di un rilancio, Brindisi ha bisogno di risposte, sono convinto che questa amministrazione a Guida Marchionna con l'apporto e con l'aiuto anche dell'onorevole Datis, che è sicuramente la figura più autorevole presente sul territorio brindisino, possa creare le condizioni per cui questo si verifichi. In questo momento non possiamo sicuramente più sbagliare perché ove e dove non dovessimo riuscire a ottenere i risultati che ci stiamo prefigendo probabilmente sarà una grandissima sconfitta. Grazie alla segretaria di Fratelli d'Italia Luigi Caroli, le auguriamo buon lavoro e per concludere partiamo proprio dalla sua ultima dichiarazione, non possiamo più sbagliare evidentemente qualche errore se si è arrivati a questo punto, nel frattempo è stato commesso, per cui intanto da un lato buon lavoro alla dottoressa Giuliana Tedesco, assessora con delega vice sindaco, urbanistica e gestione del patrimonio, ancora rigenerazione urbana, riqualificazione della costa, trasporti e parcheggi, impiantistica sportiva e turismo e dall'altro complimenti ad Antonio Pisanelli che passa dai servizi sociali alla pubblica istruzione, politiche dell'Unione Europea, cooperazione internazionale, politiche giovanili, sport e promozione sportiva, ancora politiche del lavoro perché evidentemente Pisanelli ha lavorato bene per cui nonostante queste differenze di delega è stato riconfermato in giunta, nel frattempo cambiamo argomento e parliamo invece di cultura perché fra pochissimo ci collegheremo con il sindaco di Mesagni e Tony Matarrelli perché la via Appia è stata inserita nel patrimonio dell'UNESCO dopo diversi anni di lavoro, finalmente è stato raggiunto questo importante obiettivo, ieri sera a Mesagni e si è tenuto un convegno, intanto mandiamo in onda il servizio che introduce un po' questo argomento e poi sentiamo sullo stesso il sindaco. La via Appia è stata inserita dall'UNESCO nella propria lista dei patrimoni dell'umanità, il sessantesimo sito in Italia. L'investitura ufficiale è avvenuta a Nuova Delhi in India dove in questi giorni è in corso la 46esima riunione annuale UNESCO per la provincia di Brindisi che ha ben tre core zone legate alla via Appia, si tratta di un evento storico. Noi in quanto provincia di Brindisi abbiamo la fortuna e il privilegio di avere tre siti importanti rispetto al progetto che il Ministero ha realizzato affinché la via Appia potesse diventare patrimonio dell'UNESCO. Tre core zone, quindi Ignazia, Messagni e Latiano attraverso il parco archeologico di Muro Tenente e Brindisi ovviamente che è il terminale della via Appia per noi è veramente un motivo di orgoglio straordinario e motivo anche di ulteriore valorizzazione del nostro territorio. In questo caso possiamo affermare che stiamo calpestando, ci troviamo esattamente sulla via Appia all'ingresso di Muro Tenente? Secondo noi sì, noi che l'abbiamo scavata, io e il professor Burgers abbiamo l'impressione che si tratti proprio della via Appia, si tratta di una via che si tratta di una via che è stata una giornata emozionante. Quanto? Sindaco, dopo diversi anni di lavoro, perché è bene sottolineare che questi risultati importanti e ambiziosi non arrivano certamente per caso. Assolutamente così, il fatto che la via Appia sia patrimonio dell'umanità dell'UNESCO è un fatto straordinario per l'intero paese. Per quanto riguarda il nostro territorio effettivamente è stato un successo perché sono state individuate tre core zone, tre zone principali rispetto appunto al progetto che ha fatto il Ministero che si trovano nella nostra provincia. Si tratta di Emiazia, di Brindisi e del Parco Orcologico di Muro Tenente che è una realtà molto bella condivisa dal comune di Mesagni dell'Aziano. Questo sta ad indicare che avremo di fatto dei siti di UNESCO in questa provincia ed è la prima volta nella storia che accade. Ovvio che un grosso del merito va a chi ha concepito questa candidatura, quindi il Ministero della Cultura che ha investito finché la via Appia potesse diventare patrimonio dell'UNESCO, di UNESCO, ma anche noi abbiamo il merito di aver avuto la capacità di dimostrare che vi erano qui nel nostro territorio in realtà che potessero essere poi considerate tra le zone più importanti in assoluto e non era affatto scontato perché lì a Nuova Vedi quando hanno proclamato la via Appia in patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, alcune zone individuate dal Ministero sono state rimosse. Mentre noi siamo lì a pieno titolo e quindi tre siti centrali sul 19 si trovano nella nostra provincia. Lei ha detto che non è stato facile dimostrare che alla fine noi meritavamo di essere lì, di avere questo riconoscimento. C'è stato un momento particolarmente difficile? Se sì, quale? Noi abbiamo lavorato sotto affinché queste realtà che insistono sul nostro territorio potessero essere ritenute credibili. Lei sa quanto lavoro è stato fatto ad esempio a Muro Tenente che era un luogo desolato dove non c'era nulla e dove grazie alla benegazione degli enti locali e la benegazione del professore Pierre Bulges e delle associazioni e delle cooperative che operano in questo settore siamo riusciti a mettere in piedi un parco che è straordinario, che ha veramente un aspetto che può essere di lì a tutti. È veramente una realtà straordinaria, bellissima, dinamica dove si tengono attività costante, dove gli studenti vengono a scavare, vengono studenti da tutta l'Europa per gli scagli e per poter valorizzare questa nostra realtà. E lì il comune di La Diana e di La Cagna hanno dimostrato anche quanto la sinergia tra enti locali possa produrre intermedie di risultati. Sindaco, l'ultima domanda prima di ringraziarla e salutarla per essere stato con noi, anche se soltanto al telefono ovviamente ci sarebbe piaciuto averla ospite in studio. Dal punto di vista delle ricadute per il territorio, in questo momento cosa vi aspettate? Voi siete abituati a guardare oltre, quindi in genere riuscite poi a centrare gli obiettivi proprio perché fate delle valutazioni sulle conseguenze delle azioni che andate ad intraprendere. Dal punto di vista turistico, la Puglia sta riscuotendo grande successo, ma questo è un segmento molto importante e soprattutto trainante. Cosa ci aspetta? Il marzio UNESCO di fatto arricchisce la proposta turistica del territorio. Vi è un turismo proprio dell'UNESCO diffuso in tutto il mondo, quindi qui arriveranno persone da tutto il mondo. Certo, questa cosa dovrà ovviamente spingerci ad essere ancora più responsabili, a fare in modo che le infrastrutture siano all'altezza, perché ci hanno flussi turistici inaspettati fino a qualche tempo fa e soprattutto dovremmo lavorare sul decoro, dovremmo contrastare gli abbandoni che purtroppo sono ancora molto frequenti nel nostro territorio, dovremmo contrastare tutte quelle azioni di civiltà che ci indeboliscono dal punto di vista anche della bellezza. Noi ovviamente faremo la nostra parte come istituzioni, ma è necessario che tutti i cittadini facciano altre cose. Grazie al sindaco di Mesagne, Toni Matarrelli, e ovviamente anche noi sottolineiamo l'importanza di avere più cura del territorio e di provare in qualche maniera a collaborare tutti quanti insieme per arginare questi fenomeni di degrado che soprattutto sono evidenti e ripetuti soprattutto nel territorio delle campagne, ma proprio la campagna è attraversata da questa e da altre arterie storiche dalle quali possiamo, se non ripartire, ma sicuramente trarre maggiore vantaggio per rendere sempre più bella e meta sempre di un turismo qualificato la nostra bella Puglia. Arrivederci sindaco. Grazie, grazie, arrivederci, a presto. Buon lavoro, facciamo una pausa, ci rivediamo fra pochissimo. Riprendiamo dando uno sguardo alle pagine del quotidiano, ma questa volta la prima di Taranto e allora andiamo a vedere Exilva, avviso di Melucci, ci vuole una nuova era, il messaggio alla vigilia del nuovo bando per l'investitore privato, il sindaco Melucci alla vigilia del prossimo bando di vendita, entro fine mese, che metterà sul mercato gli asset Exilva, avverte gli investitori che vogliono rilevare gli impianti spiegando che un accordo di programma è basilare, una sorta di avviso ai naviganti che eviti un altro caso Mittal e che soprattutto metta in chiaro le priorità di una città sfibrata da anni di incertezze, non vogliamo condizionare la cessione, ma sia chiaro, ambiente e salute devono essere le priorità del futuro, ha detto il primo cittadino di Taranto ieri. E poi l'attacco dei sindacati, dipendenti comunali, che caos, siamo pronti a bloccare tutto, i nodi, relazioni inesistenti e diritti violati, il clima è teso a palazzo di città, non sono le fibrillazioni politiche in questo caso a creare problemi al sindaco Melucci, ma le organizzazioni sindacali che già da tempo denunciano criticità e problemi nelle relazioni. Ieri un altro pesante attacco di Cigelle e Cisle Will che continuano ad essere sul piede di guerra, i confederali parlano di trasferimenti di uffici senza alcun confronto e lamentano anche una disparità di trattamento rispetto ad altre organizzazioni sindacali e soprattutto minacciano di bloccare la macchina amministrativa qualora non si trovasse un accordo. Andiamo avanti, turismo in Puglia dai trasporti alla benzina all'incognite dei costi sulle presenze di agosto e poi il mare al primo posto per le ferie, il 75% sceglie lo stabilimento balneare, questa è la pagina ovviamente in comune. Poi la politica, civici nel PD de Santis apre ma decidono i singoli territori, il vincolo chiaro, NOAC intende il partito come un autobus se niente, trasformisti, le prospettive da tempo, fase di rinnovamento e allargamento, penso a Taranto e ad altre realtà. Allora andiamo a dare uno sguardo a porte aperte ma non a trasformisti e a chi vede il partito come un autobus per tornaconto personale. In ogni caso saranno i territori a fare selezione all'ingresso e a scegliere chi e come accogliere decidendo in sintonia con la comunità politica di riferimento per non compromettere equilibri talvolta delicati e sul punto spesso di andare in frantumi. La segreteria regionale del PD non alza il muro ai civici della galassia emiliano e anzi indica una strada. La prospettiva di una migrazione tra i democratici a blocchi di gruppi e tema sul piatto e strategia all'ordine del giorno. Andiamo avanti ancora. Taranto e Xilva da Melucci avviso a chi verrà. Dovrà essere una nuova era. Il sindaco alla vigilia del prossimo bando di vendita avverte gli investitori che vogliono rilevare gli impianti spiegando che un accordo di programma è basilare. Poi casa del Made in Italy a Taranto, stroncatura dei 5 Stelle, interviene il senatore Turco, rischia di diventare l'ennesimo poltronificio. Il ministro Urso ha inaugurato venerdì a Taranto la casa del Made in Italy pugliese, l'ottava sede dopo altre sette già inaugurate in altre regioni. Un'iniziativa che il vicepresidente del Movimento 5 Stelle, il tarantino Mario Turco, boccia totalmente chiedendo quale sarà in concreto la funzione di questi ispettorati ministeriali territoriali e con quali e quante risorse finanziarli. Senza risposte chiare a queste domande aggiunge, non possiamo che trarre una conclusione. Siamo di fronte all'ennesimo poltronificio creato dal governo Meloni per accontentare qualche amichetto locale, per non parlare poi della duplicazione con le funzioni delle Camere di Commercio e di altre strutture territoriali. Su questi temi speriamo di essere fortunati e di ricevere finalmente una risposta dal ministro Urso. Andiamo avanti. Ferie collettive da oggi, poi la cassa integrazione. Parliamo della situazione della Leonardo. Comincia la fermata dello stabilimento aeronautico di Grottaglie. L'accordo sindacale della scorsa settimana stop alla produzione fino al 19 agosto e successivamente scatteranno gli ammortizzatori sociali. Ovviamente un articolo a firma di Domenico Palmiotti. Comincia oggi la fermata dello stabilimento Leonardo di Grottaglie dopo l'accordo sindacati-azienda firmato a Roma nella notte tra il 23 e il 24 luglio scorsi. E comincia dalla chiusura collettiva per ferie, non dalla cassa integrazione, sebbene la necessità di ricorrere agli ammortizzatori sociali, perché Boeing sta ritirando dal sito meno fusoliere per il 787, è stata quella che ha portato l'azienda e sindacati a dover trattare e a raggiungere poi un'intesa. Nell'iniziale richiesta di Leonardo, quella del 2 luglio, che faceva riferimento a quattro mesi di stop e la cassa integrazione ordinaria a zero ore per i dipendenti, la cassa sarebbe dovuta partire proprio oggi. E quindi dopo la chiusura estiva ci sarà la rotazione in servizio dei 931 lavoratori fino a novembre. Almeno queste sono attualmente le previsioni. Andiamo ancora avanti, restando su Taranto, caso dipendenti comunali, i sindacati contro Melucci sono pronti a bloccare tutto. Il clima resta tesissimo all'interno della macchina di Palazzo di Città. CGL, CISL e UIL lamentano da tempo relazioni inesistenti e diritti violati. Andiamo a dare uno sguardo al taglio basso. Sito archeologico davanti al Duomo. I risultati al convegno Magna-Grecia. All'apertura dell'evento internazionale di settembre si parlerà anche di questa ricerca. Saranno presentate ufficialmente in modo dettagliato al prossimo convegno internazionale di studi sulla Magna-Grecia le sorprese di largo arcivescovado a Taranto Vecchia. Intorno al 15 maggio gli archeologi di cooperativa Etra, impegnati nella sorveglianza archeologica di un cantiere di Enel Distribuzione, Vincenzo Stasola ed altri, hanno effettuato questi rilievi che saranno condivisi nel corso di questo convegno. I risultati emersi nella ricerca saranno rivelati nell'atteso e consueto appuntamento con la rassegna archeologica di tutta l'area ionica affidata alla nuova soprintendente nazionale Francesca Romana Paolillo. Ancora Taranto, la maggioranza alla prova del Consiglio Comunale, il sindaco quarto è fiducioso, oggi in aula c'è il riequilibrio di bilancio, ovviamente siamo in provincia, Massafra, nervitesi all'interno della massima assise. Il primo cittadino non si scompone e per ora non si prevedono cambiamenti in giunta. E poi guardie mediche e turistiche, gli orari a partire da oggi, perché l'ASL ionica comunica come sarà articolato il servizio di assistenza sanitaria per i turisti e per le persone non residenti nelle località turistiche. La più importante modifica sarà introdotta oggi a Castellaneta Marina, nella località cittadina, la guardia turistica è sita in piazzale Kennedy. di fino ad oggi è stata accessibile il sabato e la domenica dalle ore 10 alle 16. A partire da oggi invece il servizio sarà accessibile da lunedì al sabato, dalle 9 alle 16, ma anche la domenica dalle 9 alle 15. Diamo un ultimo sguardo prima di salutarci, bilancio impianti sportivi e siccità, tre grandi temi nell'aula consigliare siamo invece a Manduria. E con questo è tutto per quanto riguarda la nostra rassegna stampa, la nostra prima edizione della TG di Antenna Sud. Grazie per essere stati con noi, arrivederci e buon proseguimento di giornata. Rimani connesso, scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud. Più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata. Seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo. Grazie per la visione!